Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. In apertura vogliamo dedicare questa puntata del nostro telegiornale sportivo a Giuseppe Piano che è venuto a mancare ieri all'affetto dei suoi cari. Giuseppe, direttore della concessionaria Renault a Campobasso, è stato poi responsabile del settore vendite per l'Italia del caffè Camardo, lavorando per la nota azienda molisana per 50 anni, dimostrando un attaccamento professionale e una fedeltà lavorativa davvero uniche. Giuseppe Piano è stato anche dirigente della Juvenes, squadra che alla fine degli anni 60 ha rappresentato un punto di riferimento per i ragazzi di Campobasso e della zona, il cui presidente, mai dimenticato, era Bartolomeo Camardo, imprenditore affermato della nostra regione. Alla moglie Concetta e alle figlie Sabrina e Giovanna va la solidarietà più affettuosa e sincera, non soltanto da parte della redazione sportiva di Telemolise, ma anche dell'intero staff dirigenziale e occupazionale dell'azienda Caffè Camardo, oltre che della polisportiva AM Juvenes, nata la scorsa estate per volontà di Peppe Camardo per ricordare le imprese della squadra degli anni 60. Io ho conosciuto personalmente Giuseppe Piano e assicuro che era una persona gentile e sempre sorridente. Io personalmente lo ricorderò così.